Ciao, benvenuto o benvenuta nel nostro canale, io sono Paola, con me come nell'altro video ci sono Mario e Franci e ti facciamo vedere questa spesa piccolina fatta per la grande e-drive come abbiamo fatto la prima volta allora, non vedi due confezioni di acqua frizzante della guizza, poi ti spiego perché ho preso due confezioni e ti spiego anche perché, aspetta amore, perché comunque ho fatto questa spesa così piccola in più non vedi due confezioni di sofficini del marchio Iper perché le abbiamo già messe nel congelatore, giusto Mario? sì ok, con che cosa volete iniziare? con i fruttolo ah, l'acqua veniva 1,80€ mi sembra la confezione i simili sofficini in offerta invece di 1,69€ 1,49€ quindi dicevamo fruttolo abbiamo il fruttolo di 300 grammi di 40 anni e questo è pure e c'è un bel concorso, vieni qua che leggiamo il concorso il concorso? c'è il concorso, allora no, forse no, forse non c'è un concorso vedrò se lo trovo se c'è un concorso, nel caso ti farò sapere prossimamente no, ok, questi venivano 1,49€ ne abbiamo presi due allora Franci va a metterli a posto poi il solito dove? nell'occhio? eh vabbè i grammi non li vedo magari erano a ciglia Mario i grammi sono forse sotto, prova a vedere sotto e in questo c'è sempre il concorso quello della Nintendo Super Mario 220 grammi abbiamo detto 1,49€ non in offerta ma lo prendo perché loro lo mangiano io gli ho ammazzato gli ho ammazzato le patatine le patatine poi abbiamo il ketchup dell'orco smarchio orco sono dentro quanti? eh so, mi sembra che siano forse sono 6 sai? sì 6 per quanti grammi ognuno? 6 per 15 uguale 9 grammi no, 6 per 15 6 per 15 no, non fa 9 grammi però viene qualcosina 90 allora il il questi qua vengono 89 centesimi l'uno oh no e questi qua vanno da un'altra parte allora poi questi qua i della beretta i vius della beretta 4 euro ok 100 grammi quanto è scritto? ok sono 500 grammi sono dentro 5 pacchetti da 100 grammi erano in offerta 4,89€ tantissimo abbiamo gli achimel gira lì che non si vedono bene io ne volevo 3 ma ne avevano uno solo perché i miei bimbi bevono solo questo quanti grammi sono Mario? litri litri perché i grammi sono per il cibo qua forse eh sì 6 per 170 grammi 160 grammi ok e di questi io volevo praticamente questi insieme a 3 di questi dell'activia se arrivavo a 10 euro legge intanto quanti grammi sono 500 ok 6 10 euro tra il marchio actime il marchio attivia e il marchio knorr e il marchio clear e il marchio dei formagini della mio comunque ti lascio in descrizione il link della promozione fino a fine giugno c'è la possibilità di vincere se compri almeno 10 euro un buono da 50 euro io non arrivo a 10 euro perché non c'erano abbastanza attivi a mannaggia sì poi vai Franci vai a mettere via quelli poi questi fai questi abbiamo il prosciutto colto di alta qualità ok quanti grammi sono che faccio vedere ne ho preso io ne ho preso 3 o 4 140 140 questo veniva a 2 euro e 20 ed era in offerta ne ho presi 3 perché prendendo 10 7 almeno 7 euro di prodotti del marchio iper ogni 7 euro mi davano il buono quello da provare a vincere che ti ho fatto vedere anche l'altra volta nel video del lunedì e anche questa volta non abbiamo vinto sì noi no prosciutto prosciutto ehi cubetti di prosciutto 360 grammi ok questi qua io li prendo perché o facciamo la pasta al sugo o la pasta in bianco con i cubetti di prosciutto oppure ai bimbi piace mangiarlo anche così questo veniva a 1 euro e 89 in offerta però non mi fanno impazzire non ti fanno impazzire il prosciutto cotto così però la planchezza è molto utile sai che ti aiuta molto tipo per iodo è migliorato tanto meno male poi cosa sono quelle flagule flagule quanti grammi sono 250 io volevo quelle da mezzo chilo non c'erano e ci accontentiamo di queste non so neanche quanto venivano calve per questo della calve è una delle belle scoperte perché 150 millilitri 150 millilitri sì allora questo della calve c'è un concorso per sul sito della calve lo trovi ti lascio anche in descrizione questo concorso praticamente ogni prodotto della calve ti dà 100 punti arrivando a determinate soglie puoi prendere dei premi in più partecipi all'estrazione di due biglietti per gli europei credo siano gli europei comunque trovi tutto il link in descrizione ecco tutto ben preciso come fare per riuscire a cumulare i punti basta semplicemente come sempre mettere i dati dello scontrino fare la foto dello scontrino e questo praticamente noi ci proviamo vediamo quanti punti sono venite sulla montagna va bene vediamo quanti sono i punti e vediamo quali sono i prodotti e vediamo che cosa riusciamo a fare abbiamo tempo tutti fino al 19 di settembre gli ultimi prodotti sono questi che sembrano veramente pochi come quantità Mario leggici i millilitri che è uguale per tutti millimetri millimetri 250 perfetto 250 ne ho presi 4 di queste qua alla gasosa 4 all'aranciata e 4 all'aranciata no e solo 2 all'animo nata ah tra l'altro per la calve io avevo un buono costava 99 centesimi in offerta e avevo un buono sulla tessera dell'iper di 80 centesimi quindi io questa l'ho pagata solo 19 centesimi quindi ho pagato 19 centesimi questa calve e se non fosse stata in offerta avrei potuto partecipare anche su wiscount per avere il rimborso ancora quindi mettiamo costi 1 euro e 40 meno 80 centesimi che questo buono se non hai il buono virtuale sulla tua tessera lo puoi scaricare dal sito sconti dal sito sconti scritto sconti trovi vari buoni sconto lo stampi lo porti in cassa una volta che lo portate in cassa e hai comprato il prodotto giusto mi raccomando alla scadenza del buono sconto mi raccomando che il prodotto sia giusto anche per i grammi una volta che te l'hanno scontato tu lo paghi meno quando vai a casa se il prodotto non è segnato come prodotto in offerta lo puoi usare anche con wiscount quindi hai un rimborso doppio tipo pazzi per la spesa america queste bottigliette io le ho pagate 99 centesimi ma sull'applicazione di Iper e lo trovi anche questo sia su sconti ogni due prodotti mi scontavano 80 centesimi quindi 99,99 1,98 euro meno 80 centesimi 1,18 euro li metterò li ho già messe su wiscount aspetto la conferma di come avere del rimborso quindi abbiamo detto 1,18 euro meno 80 centesimi due di queste qua io le pago 38 centesimi cioè 19 centesimi l'uno è vero che sono piccole però 19 centesimi la bottiglia è pochissimo e penso che queste le utilizzeremo per la festa di compleanno di Mario una parte di queste che è più facile anche comunque da gestirle perché una volta che sono finite le butto direttamente poi tre di questo latte come la volta scorsa della Bjorg ho un euro di sconto Franci dalla nonna un euro di sconto sull'applicazione dell'Iper e purtroppo per questo wiscount non me li rimborsa nonostante su wiscount ci sia scritto che era tutto il latte vegetale quindi purtroppo ho solo il rimborso di un euro grazie all'applicazione di Iper fa niente non importa mamma questo è un litro è un litro sì come quello dell'altra volta questo lo dobbiamo mettere da parte perché papà domani quando viene se lo porta direttamente a casa quindi vieni Franci che salutiamo adesso ho fatto la spesa al Carrefour e la spesa al Carrefour ci arriverà lunedì che tu vedrai il primo video spesa dell'Iper metti giù che se non cadono ah li stai mettendo via e non vuoi fare il saluto finale e vieni dai sbrigati allora li faremo lì lo vedrete lunedì che lunedì per me è il mio compleanno noi mangeremo come torta la viennetta avuta gratis grazie all'Eurospin grazie all'Eurospin e quindi mangeremo quella come come dolce e lunedì mi arriva la spesa quella dal Carrefour e anche lì ho avuto un bel risparmio che ti farò vedere alla fine ah ma non ti ho detto quanto abbiamo speso allora perché ho fatto la spesa qui di nuovo al Drive perché come vedi qua ho un 10% 10 euro di sconto quindi invece di 60 io avrei dovuto pagare 65 meno 10 60 meno 10 50 ma ma guarda bene questi questo segnato come ticket sono tutti buoni sconto online quindi sulla tessera che io ho utilizzato per un valore complessivo di 7 euro e 50 adesso vedo sicuramente avrò rimborso di 4 euro delle Ferrarelle purtroppo no dell'ate di soia ma non importa quindi avrò un ulteriore rimborso di 4 euro e 50 se non sai cos'è Wiscount magari ne parliamo bene in live ma ne ho parlato tante volte e trovi anche la mia recensione su Boy Scout sulla mia recensione playlist e recensioni quindi da 50 a 85 meno 7 euro e 50 è arrivato a 43 e 20 forse ho sbagliato i calcoli comunque 50 e 85 sono arrivata a 43 e 20 ok 43 e 20 di questi 43 e 20 abbiamo pagato quasi tutto solo con i ticket quindi da 43 euro e 20 abbiamo pagato con la carta perché si vede che mio marito con tanti non le aveva solo 15 centesimi di tasca nostra e ci verranno rimborsati 4 euro per queste qui della Ferrarelle adesso che è arrivato Francesco io ti ho detto tutto mamma ti salutiamo Franci vieni che facciamo il saluto finale io sono tipo il presentatore principale lo so amore è il fattorino del cibo è il fattorino del cibo ok allora veni qua Franci allora adesso vi salutiamo vi ringraziamo per aver visto il nostro video se non sei iscritto cosa devono fare? iscriversi mettiti di qua che non ti vedono iscriversi e mettiti like mettiti più qua che non finisse più e con condividere con tutti perché non puoi sapere che possono essere utili i nostri video vieni di qua è esagerato dite ciao a tutti ciao e alla prossima ciao ciao ciao